Musica Varata la legge di stabilità regionale Approvato il bilancio di previsione del Consiglio Precari Sanità audizione a Palazzo Lascaris Nuova edizione di Consiglio News Bentrovati via libera da parte dell'Aula Consigliare Alla legge di stabilità regionale Aperto anche il dibattito sul bilancio Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza La legge di stabilità regionale 2022 Il provvedimento prevede tra l'altro finanziamenti Per 2,506 miliardi di euro A favore del contratto di servizio decennale Con Trenitalia e l'equiparazione del bollo auto Per le vetture a noleggio Con quelle in leasing L'opposizione ha giustificato il suo voto negativo Con la mancanza di trasparenza Sul trasporto ferroviario locale E con l'assenza di misure per l'equità fiscale Sono stati bocciati Quattro ordini del giorno Proposti dal Movimento 5 Stelle E da Liberi Uguali Verdi Con le relazioni di maggioranza e opposizione Si è poi aperta la discussione Sul bilancio di previsione 2022-2024 Per il quale sono già stati presentati Oltre 2.600 emendamenti Prevalentemente da Liberi Uguali Verdi La maggioranza ha spiegato Che il provvedimento attraverso rimodulazioni Riesce a confermare in molti settori Le risorse stanziate negli anni precedenti Nonostante il forte incremento Della spesa sanitaria e il macinio Rappresentato dalla copertura Del debito residuo e del disavanzo L'opposizione ha obiettato Che questo è il bilancio dei tagli A partire dai 5 milioni in meno Sugli extra-lea E dalla riduzione di risorse Sul diritto allo studio E per l'assenza di politiche per i giovani E il sostegno psicologico Approvato il bilancio di previsione Del Consiglio Si conferma il trend di spesa Ridotto negli ultimi anni Con 37 voti favorevoli E due non votanti Il Consiglio regionale Ha approvato il suo bilancio Di previsione finanziario 2022-2024 Come ha ricordato il Presidente Dell'Assemblea Si conferma il trend Di spesa complessiva Degli ultimi anni Drasticamente ridotto Rispetto al decennio precedente Quanto stanziato Per gli investimenti Infatti è ottenuto Con l'utilizzo di avanzi Di amministrazione E risparmi Nelle spese correnti La principale voce di entrata Iscritta a bilancio È quella prevista Per le spese di funzionamento Del Consiglio regionale Che per l'annualità 2022 Ammontano a circa 49,7 milioni Con un incremento Di 930 mila euro Per l'adeguamento In previsione Dei nuovi contratti Di lavoro E per alcuni accantonamenti In generale L'importo complessivo Per titoli Al netto Delle partite di giro Avanzo E fondo pluriannale Vincolato in entrata Per il 2022 È di 50,1 milioni Il bilancio Del Consiglio È in linea Con quello Delle regioni Più virtuose d'Italia E a differenza Di alcune Comprende Tutti i costi Del personale E dei servizi Che in altri casi Sono invece a carico Del bilancio Della Giunta Nel 2021 A fronte di 12 pensionamenti Sono stati assunti Sei nuovi dipendenti Nel 2022 I pensionamenti Saranno in tutto 17 9 nel 2023 15 nel 2024 6,8 milioni Saranno destinati Ad altre voci Di investimento Tra cui I lavori Di ammodernamento Dell'immobile Di via Arsenale Di Palazzo Lascaris Dell'ex Banco di Sicilia Della Palazzina Turnoni In piazza Solferino E per il piano di sviluppo 2021-2023 Servizi informativi CSI In generale Le spese di investimento Previste per il 2022 Sono di circa 13,7 milioni Tra i costi Sostenuti Dall'Assemblea legislativa Quelli derivanti Dagli adeguamenti strutturali Alle norme di tutela Dal covid Della sede E dall'acquisto Di dispositivi Di protezione individuale Che ha rappresentato Per il Consiglio regionale Una spesa superiore A 60 mila euro Nel biegno Auditi in sala Aviglione I precari Della sanità Assicurata L'assunzione Dei primi 1.136 I consiglieri regionali Hanno incontrato Le delegazioni sindacali E i rappresentanti Dei precari Assunti per l'emergenza Covid I lavori d'aula Sono stati interrotti Per l'audizione Coordinata dal presidente Del Consiglio regionale Di CGL CISL Will Nursing Up FIALS E CONFSAL Tutti i sindacalisti Intervenuti Hanno nuovamente Sottolineato La necessità Di assumere A tempo indeterminato I precari Reclutati Per fronteggiare La pandemia In prima istanza 1.137 persone Che hanno i requisiti Previsti Dalla finanziaria Quindi 18 mesi di lavoro Sanitario Al 2022 La risposta del presidente Di Giunta È stata che I 1.137 Verranno assunti A tempo indeterminato Dal 1 luglio 2022 E questa operazione È finanziata Interamente Dalla regione Piemonte Continuano a esserci Alcuni punti interrogativi Sui fondi Dei tetti di spesa Del personale Però c'è anche L'impegno Come ha detto Il presidente Di trovare Una soluzione Con il governo Perché questi soldi Devono arrivare Dal governo In generale Il numero complessivo Di persone coinvolte In questa vertenza È di 5.199 Di cui 1.018 Amministrativi La regione Ha già messo 120 milioni In più Per il personale Il presidente Della regione Si è detto Disponibile Ad aprire Un tavolo Permanente Per la questione Abbiamo dato Il massimo E lo continuiamo A dare Non perché Ci hanno promesso O perché Non ci promettono Quindi Non ci resta Che provare A sperare Vediamo Se ci ascoltano L'assessore Alla sanità Ha anche ricordato Che ci sono Oltre 800 persone In graduatoria Che altrettanto Legittimamente Vogliono essere assunte A tempo indeterminato E che la via normale Per l'accesso Al lavoro pubblico È il concorso Fondo provita Al centro Dell'interrogazione Che la capogruppo Del movimento Cinque Stelle Ha rivolto All'assessore Alle politiche Sociali Il fondo Provita Che la giunta Regionale Ha annunciato Di voler Destinare Alle associazioni Che promuovono E realizzano Progetti Di tutela Materno-infantile Aiutando Economicamente Le donne Che scelgono Di abortire Per problemi Finanziari È stato oggetto Dell'interrogazione Della capogruppo Del movimento Cinque Stelle Nel question time La consigliera Ha chiesto Se non si possano Ravvisare La violazione Del principio Di libera scelta E la discriminazione Delle donne Che decidono Di portare avanti Una gravidanza L'assessore Alle politiche Sociali Ha risposto Che si tratta Di un percorso Tutt'altro Che improvvisato E che intende Dare attuazione A quanto previsto Dall'articolo 1 Di una legge Dello Stato La 194 In cui si prevede Che lo Stato Le regioni E gli enti locali Nell'ambito Delle proprie funzioni E competenze Promuovano Necessarie Per evitare Che l'aborto Sia usato Ai fini Della limitazione Delle nascite Per questa edizione È tutto Prima di salutarvi Vi ricordo Che sul sito cr.piemonte.it Trovate notizie E aggiornamenti Sull'attività Del Consiglio Regionale Del Piemonte Arrivederci Sia usata Grazie a tutti